Il provvedimento del 23 novembre 2020 ha riscritto il set documentale richiesto per beneficiare della cosiddetta penalty protection in caso di aggiustamenti sul transfer pricing, allineando la normativa italiana agli standard internazionali previsti dall'Ocse. Lungi dall'essere sostivo, il nostro intervento intende fornire una prima panoramica delle principali novità relativi al set documentale richiesto dal provvedimento, così come chiarito dalla bozza di circolare. Se da un lato è accolto con favore l'allineamento all'Ocse per rispondere all'esigenza di migliorare la trasparenza tra le amministrazioni fiscali, tenendo in considerazione i costi di compliance delle imprese, dall'altro non passa inosservata la rigidità della struttura e le formalità richieste, tra cui la marca temporale, che rischiano di rendere ancora più gravosi gli oneri documentali per le imprese. Con il verirmeno delle definizioni di holding, subholding e impresa controllata, tutte le società sono tenute a predisporre il master file, il cui contenuto è stato allineato all'azione 13 del BEPS, così come trasposto nelle linee guida Ocse. La possibilità di presentare il documento in lingua inglese dovrebbe comportare che i gruppi con casa madre italiana potranno predisporre un unico documento che abbia validità sia italiana che estera e analogamente le controllate italiane di gruppi esteri potranno utilizzare il master file preparato centralmente se il paese della capogruppo ha recepito le previsioni dell'azione 13. Anche il contenuto della documentazione nazionale appare fortemente rivisto per allinearsi all'Ocse, comportando ulteriori complessità per i numerosi dettagli anche finanziari richiesti e gli allegati, che potrebbero non essere facilmente reperibili e comportare ritardi nella predisposizione della documentazione. Si pensi alla necessità di ottenere prospetti di analisi riconciliati con i bilanci di esercizio anche delle società estere e in molti casi in cui tali riconciliazioni non sono facilmente reperibili in quanto generalmente il sistema di reportistica aziendale non è strutturato secondo logiche di segregazione per transazioni intercompany. Un altro esempio è l'obbligo di allegare APA e ruling esteri di cui la società italiana non è parte ma che sono collegate alle operazioni esaminate e che potrebbero trovare dei limiti nella clausola di riservatezza di alcuni paesi o semplicemente nella loro indisponibilità a condividere tali informazioni. Una novità di rilievo accolta con favore è la possibilità di analizzare solo alcune transazioni. La valutazione di tali transazioni non potrà prescindere da considerazioni sul grado di rischiosità delle stesse e sulla loro materialità sulla cui determinazione la bozza di circolare lascia qualche perplessità. Un tema potenzialmente rilevante ma su cui sono spiccabili ulteriori chiarimenti da parte dell'agenzia è l'utilizzo di analisi economiche con dati pluriannali che al momento sembra essere riservato soltanto ai comparabili e non anche alle teste e parti così come avviene in altri paesi oxe. Un ulteriore sforzo verso la semplificazione potrebbe riguardare i servizi a basso valore aggiunto che analogamente a quanto già previsto dall'azione 10 del BEPS presuppone la redazione di apposita documentazione costituita da quattro capitoli. Tuttavia mentre l'oxe contempla un documento autonomo e semplificato non a caso inserito in un capitolo separato delle stesse linee guida la bozza di circolare sembra semplicemente modificare il paragrafo 2 della documentazione nazionale lasciando invariate e pertanto necessarie le altre parti del documento e il masterfine su cui graverebbero anche gli obblighi formali tra cui la marca temporale facendo venir meno la razza della semplificazione. Da segnalare infine che le società con fatturato inferiore a 50 milioni di euro ma controllate da società con fatturato superiore non sono più considerate piccole e medie imprese riducendo significativamente le casistiche che potranno beneficiare delle semplificazioni previste per questa categoria.